Ho scelto il corso di grafiche e comunicazioni per sviluppare la mia creatività attraverso la fotografia, l'arte, il graphic design, il video, il web e anche la realtà virtuale. A proposito, puoi scegliere tra un corso quinquennale e quadriennale. Ho scelto il corso di meccatronica per diventare uno sperto di progettazione e collaudo di impianti. Per conoscere il campo della robotica e dell'automazione, per comprendere i processi di produzione. Ho scelto il corso di amministrazione finanza e marketing per acquisire competenze nel campo dell'informatica e dell'e-commerce, oppure nella gestione delle aziende e nella contabilità e magari anche per diventare un bravo impenditore. Ho scelto il corso di turismo. Perché rispecchia la mia passione per i viaggi e per la scoperta del mondo. Ci si forma per collaborare con gli operatori e con gli operatori del settore turistico, fino a diventare travel blogger e travel influencer. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti